L'Associazione Culturale Federica e Serena ha devoluto il ricavato dell'ottava edizione di note su ali di farfalle e delle sue attività annuali a favore dell'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo. 3.500 euro che consentiranno di realizzare un progetto di sensibilizzazione pratico ed empatico nelle scuole e nelle università abruzzesi, che include il noleggio di carrozzine, la stampa e diffusione della Convenzione Internazionale ONU sui diritti delle persone con disabilità. L'Associazione Culturale Federica e Serena, ricordiamo, è nata per tenere vivo il ricordo e l'impegno nel sociale delle due studentesse di medicina, Federica Moscardelli e Serena Scipione, vittime del terremoto dell'Aquila. Noi quest'anno abbiamo devoluto e ricavato l'Associazione Carrozzine Determinate Abruzzo, ricavato di tutte le attività appunto 2018-2019, per la realizzazione di un progetto specifico. Questo progetto è un progetto di sensibilizzazione per i giovani, per le scuole, quindi rivolto alle scuole e all'università e prevede anche la stampa e la diffusione della Convenzione Internazionale ONU dei diritti appunto delle persone disabili, una sorta di costituzione per le persone con disabilità. Secondo noi è molto importante questo perché spesso, diciamo, di fronte a queste problematiche, tanti che non ne sono toccati, neanche, diciamo, riescono a riconoscere quelli che poi sono i reali problemi da affrontare quotidianamente, per cui alcune persone si trovano davvero quotidianamente a combattere delle vere e proprie battaglie. Questo non è possibile quando esistono dei diritti e quindi devono essere garantiti. Siamo davvero felici di farlo, quindi in nome di Federica e Serena, come sempre, nel loro ricordo. Ci tengo tanto a ringraziare tutti quelli che fino ad ora hanno partecipato, d'altronde sono dieci anni di attività e quindi sono davvero importanti per noi realizzare ogni volta un obiettivo è davvero un traguardo bellissimo fondamentalmente. Quindi ci tengo tanto a ringraziare la famiglia prima di tutto, le famiglie di Federica e di Serena che ci sono sempre vicine costantemente, anche gli artisti che hanno partecipato l'anno scorso con grande sensibilità, Cristina Donasa, Saverio Lanza, Filippo Graziani e poi tutti chiaramente quelli che ci sostengono, quindi gli sponsor ma soprattutto il pubblico perché senza di loro non sarebbe possibile chiaramente andare avanti e continuare a far volare la nostra farfalla.